Grazie a tutti. C'è ovunque marciapiedi impraticabili e roghi di serpaglie che mettono a rischio la salute e l'incolumità dei residenti. Lo scorso venerdì addirittura un rogo ha circondato la chiesa di San Sebastiano, terrorizzando i pochi fedeli che si trovavano all'interno in quel momento. Il comitato dei quartieri Settefarine denuncia lo stato di abbandono in cui versa il quartiere da troppo tempo ormai. Mai così in basso, dicono, siamo abbandonati dalle istituzioni. Vediamo. Nella situazione di degrado generale che sta vivendo la città dal punto di vista dell'igiene e del decoro urbano, a pagare il prezzo più alto, come al solito, sono le periferie. Le zone all'estremo nord della città sono quelle raggiunte da sempre meno servizi e nell'ultimo periodo si sono trasformate in vere e proprie giungle urbane. Una su tutte è Settefarine. Basta attraversare il ponte che la collega al centro della città per rendersi conto che qui è sempre più terra di nessuno. Le erbacce hanno invasi marciapiedi e per i pedoni è complicato anche spostarsi senza rischiare di essere investiti. L'unico giardino pubblico del quartiere, la cui pulizia appena qualche mese fa era stata trasformata nell'ennesima passerella propagandistica, versa in condizioni di degrado estremo con le siepi che superano ormai due metri di altezza e con gli insetti che la fanno da padroni. Ma i problemi del quartiere sono tanti, troppi, secondo il responsabile del comitato, Salvatore Terlati. Io non l'ho mai visto in tutta la mia vita che abito in questo quartiere così abbandonato, così distrutto, proprio lasciato alla Mercedes, nella natura. Non c'è pulizia nelle strade. Questo bellissimo giardinetto che potrebbe essere un fiore all'occhiello per il quartiere è abbandonato a se stesso. La siepe che dovrebbe essere alta un metro e due metri e cinquanta, non viene potata da anni. Io dico, ma questa amministrazione cosa sta facendo per la città? Io non ho mai visto la città così sporca. Noi paghiamo una tassa dei rifiuti, la più alta d'Italia. Abbiamo una città che è sporca ovunque. Adesso ci prepariamo all'estate. Ma quali turisti dobbiamo far venire se poi facciamo vedere l'immondizia che abbiamo a Gela? Tra i problemi del quartiere è anche gli incendi che in questo periodo bruciano i tanti terreni abbandonati, pubblici e privati. Appena venerdì scorso un rogo ha circondato la chiesa di San Sebastiano. Siamo stati circondati proprio dalle fiamme. Attorno alla chiesa e attorno alla scuola qualcuno o per pulire i terreni o perché è attaccato dagli insetti ha pensato bene di dare fuoco cose che non si fanno perché l'amministrazione e la polizia dei lutti interclusi quest'anno e gli altri anni non se ne parla, non se ne discute. Ci siamo visti proprio sommersi dal fumo all'interno della chiesa. Non si poteva stare. Fortunatamente non c'era nessun matrimonio, nessun vulnerabile perché se no il piazzale era pieno di macchine. Ci poteva scappiare veramente una catastrofe con le macchine lì vicino. Ma le fiamme erano altissime perché il vento li spingeva contro la chiesa e contro la scuola. È assurdo. La polizia dei lutti interclusi, cara amministrazione, ai proprietari si manda l'ordinanza ad aprile, marzo, aprile. A maggio i terreni devono essere già puliti. Non si pensa di mandare un'ordinanza a maggio per poi aspettare che entro luglio la gente continui a dare fuoco e poi non c'è più nulla da pulire. Le erbacce intanto hanno invaso strade e marciapiedi come in via Leoncavallo dove lo spazio per il passaggio dei pedoni è totalmente impraticabile. Nonostante quel tratto di strada sia frequentatissimo dai ragazzi che devono recarsi a scuola e che ogni giorno rischiano di essere travolti da qualche auto. Abbiamo i marciapiedi che sono pieni di erbacce, non si può camminare, non ci sono più marciapiedi. La spazzatrice qui nella via Settefarina non la vediamo da anni e noi paghiamo una tassa altissima. E' quanto prima sicuramente andremo a imbugnare questa tassa perché è illegale, non c'è gara, io non posso pagare tutti questi soldi. Dovrei pagare con la vecchia gara che è stata fatta otto anni fa. Svegliamoci, diamoci una mossa, collaboriamo tutti insieme, non chiediamo solo ai cittadini di fare la polizia, ma l'amministrazione deve fare il più grosso. E' proprio nei giorni in cui impazza la polemica sull'ampliamento di Timpazzo, è stato riconfermato il Consiglio di Amministrazione della SRR4, la società che gestisce l'intero sistema locale dei rifiuti. Continueranno a farne parte i sindaci di Butera, Mazzarino e Delia. L'avvocato Lucio Greco ha però avanzato la proposta di un ingresso del Comune di Gela e ha ottenuto una nuova riunione, tutta incentrata sulle ultime vicende che toccano proprio il sito di Timpazzo. Vediamo. Non c'è stata l'unanimità, ma alla fine l'assemblea della SRR4 ha confermato l'attuale CDA con i sindaci di Butera, Mazzarino e Delia. Aspetta adesso proprio a Filippo Balbo, che ha rivestito l'incarico, Vincenzo Marino e Gianfilippo Bancheri decidere la nomina del presidente. La riconferma in un periodo molto complesso per il sistema locale dei rifiuti non era affatto scontata. Il sindaco di Sommatino, Elisa Carbone, ha infatti avanzato la propria candidatura, che alla fine non ha trovato i voti necessari, anche se pare che l'assemblea voglia anche rivedere lo statuto rispetto alla rappresentatività femminile nel CDA. Anche sul bilancio c'è stato voto favorevole. Era però inevitabile che nel corso del confronto si toccasse il punto dell'attuale situazione della piattaforma integrata di Timpazzo, che la regione ha ormai messo sotto osservazione come nodo strategico per affrontare l'emergenza, a seguito del ridimensionamento del sito di Lentini. Il sindaco Lucio Greco ha chiesto e ottenuto un confronto sul tema con una nuova riunione dell'assemblea della SRR fissata per lunedì prossimo. Potrebbero però esserci novità anche sul fronte della composizione del CDA. Lo stesso Greco ha infatti avanzato la proposta che il comune di Gela possa farne parte, oltre ad essere il comune più popoloso dell'intero territorio coperto dalla SRR4, è quello che ospita la piattaforma integrata di Timpazzo e sul quale pesa il rischio concreto di un consistente aumento dei conferimenti. Greco conferma di aver formalizzato la richiesta che il comune possa entrare a far parte del consiglio di amministrazione, pur essendo un ente con più di 15.000 abitanti. In base a quanto riscontrato dal segretario generale, su richiesta proprio dello stesso Greco, è emerso che in altre situazioni, ad esempio a Ragusa e Messina, ci sono CDA dei quali fanno parte sindaci di comuni con più di 15.000 abitanti. Pare che alcuni sindaci della SRR abbiano già dato disponibilità. Bisognerà però valutare anche questa strada di Timpazzo e del disegno politico della regione per la gestione dell'emergenza rifiuti. Si continua a parlare, la partita pare tutt'altro che chiusa. Ieri infatti lo stesso Greco ha spiegato di non aver avuto indicazioni precise né dalla SRR né dalla regione rispetto proprio al piano per l'aumento dei rifiuti conferibili a Timpazzo. E adesso diamo un'occhiata al consueto report sull'emergenza pandemia. Un solo nuovo caso di positività al Covid in città nelle ultime 24 ore. I dati ovviamente sono stati forniti da ASP, sono invece 25 i guariti. La curva complessiva continua a scendere, ora è attestata a 132 contagiati. Un caso di positività è stato riscontrato a Niscemi ed è l'unico in tutta la provincia. Un paziente niscemese è stato trasferito in degenza ordinaria dopo aver lasciato la rianimazione. I guariti in provincia sono tre di Caltanissetta, uno di Mussomeli e uno di Niscemi. E a proposito di emergenza pandemia, oggi è il giorno per la riapertura anche all'interno dei ristoranti. Le disposizioni imposte con il nuovo DPCM consentono finalmente di respirare un po' di libertà in più per tutti. Da oggi infatti i ristoratori potranno accogliere la clientela anche all'interno dei propri locali. La ripartenza non sarà facile ma sicuramente può rappresentare un primo segnale di rirascita. Vediamo. Tavoli ad almeno un metro di distanza, numero prestabilito di persone all'interno del locale, possibilità di non indossare la mascherina solo se seduti al tavolo. Bar e ristoranti tornano a riassaporare l'atmosfera di un tempo. Da oggi sarà possibile accogliere i propri clienti anche all'interno del locale. E così dopo tutti questi mesi trascorsi a desiderare la quotidianità di un tempo, finalmente si torna a respirare un po' di libertà in più. Cambiano le disposizioni di sicurezza ma fondamentale resta l'adozione da parte dei ristoratori di tutte le misure di contenimento della pandemia e una maggiore attenzione nel rispetto delle stesse da parte della clientela. Ci stiamo organizzando con tutte le rispettive distanze dovute dal decreto del DPCM. Speriamo di lavorare perché dopo un anno di chiusura totale dei locali e soprattutto dei ristoranti ci stiamo cercando di organizzare nel miglior modo possibile per poter ricevere la clientela, ospitarla e soprattutto farla sentire a proprio agio dato che da un anno, quasi due anni, che non escono, le persone non possono sedersi nei tavoli e chiacchierare con gli amici e mangiare nei ristoranti. E quindi speriamo che con la nuova apertura, con meno restrizioni possibili, ospitare realmente le persone e lavorare tutti in tanta pace senza che nessuno ci disturbi più e senza sentire soprattutto Covid-19, non perché non ci sia o perché noi non abbiamo capito qual è il problema, ma perché vogliamo avere una vita libera, soprattutto libera. Normalmente sempre con i controlli, mettendo tutte le disposizioni che ci sono nelle normative, quelle del Covid, con la distanza, con tutte le precauzioni, e speriamo che questa cosa va sempre a migliorare e sperando che si lavora di più. Dobbiamo vedere se la gente inizia a stare dentro, chiusi diciamo, dentro il locale. Dobbiamo vedere ora, iniziando adesso, dobbiamo vedere come va. Anche se per alcuni ristoratori la totale ripresa della propria attività non lascia ancora intravedere una luce in fondo al tunnel, le disposizioni imposte con il nuovo DPCM possono in qualche modo rappresentare un primo segnale di rinascita. Dopo tutto quello che hanno supportato i pubblici esercizi è un momento veramente di stare uniti e cercare di fare gruppo per riuscire ad avvicinare più possibili i clienti. Gela in questo momento è vuota di turisti, è vuota di persone che vengono da fuori. L'economia è fatta principalmente da gente che viene da fuori e allora la dobbiamo attirare qua, con i servizi, la professionalità. Le difficoltà evidenziate più volte dai ristoratori nel corso di questi mesi sono state legate principalmente alle perdite economiche comportate dalle disposizioni anti-Covid imposte. Nonostante in un primo momento il ritorno economico non sarà idoneo a colmare la perdita economica accumulata nei mesi precedenti, la riapertura di oggi e l'arrivo della stagione estiva potrebbero essere il connubio perfetto per segnare una valida ripartenza. Perché la gestione di un'attività, un pubblico esercizio, è difficile. Però assicuro che ai periodi che resteranno aperti l'utile ci sarà. Certo dipende dall'imprenditore, fare l'imprenditore è un rischio, c'è un investimento proprio economico. Se non vuoi fare l'imprenditore rischiare cambi mestiere. Ma le assicuro che i ristoratori, gli artigiani in pasticceria sanno fare solo questo e sono disposti a rischiare per aspettare anche dopo 15 mesi la riapertura. Le ambulanze in dotazione al presidio ospedaliero Vittorio Emanuele sono rotte. O meglio, uno dei tre mezzi è stato ceduto all'ospedale Basarocco di Niscemi. Gli altri due invece sono finite in officina, attardate a problemi meccanici, complice i troppi chilometri percorsi. L'ambulanza più recente ha registrato il surriscaldamento alla testata e continua ad accusare problemi al cambio. L'altra in dotazione al parco mezzi e all'ospedale Via Palazzi ha fuso il motore mentre era di ritorno da Caltanissetta. Solo per una fortuita coincidenza il paziente era già stato trasferito, prassi ormai consolidata, in un ospedale del Nisseno. L'ambulanza si è bloccata sul ciglio della strada nei pressi e la zona balneare di Manfria col motore bloccato. L'autista sarebbe stato costretto a sollecitare l'intervento della ditta convenzionata con l'aspe di Caltanissetta, costretta a recuperare il mezzo vetusto con un carroattrezzi. La situazione purtroppo si potrà dalla scorsa settimana e costringe ancora i cinque autisti in forza presso l'ospedale ad alternarsi alla guida dell'unica utilitaria ancora marciante. La stessa Fiat Punto sarebbe impiegata in attività amministrative e anche in trasferimenti di sacche di sangue. Non è utopistico pensare a un periodo di ferie forzate per gli autisti, intanto i vertici dell'ospedale sarebbero costretti a ricorrere al servizio privato di ambulanze. Cambiamo argomento e parliamo di Farello, del cimitero Farello e dei nuovi loculi che sono stati realizzati recentemente. Diversi visitatori del cimitero hanno segnalato la presenza di alcune crepe apparse da un giorno all'altro su un paio delle nuove strutture prefabbricate e realizzate in somma urgenza dalla Ghelas proprio per far fronte all'emergenza sepoltura. In mattinata i tecnici e la municipalizzata sono intervenuti per effettuare un sopralluogo. Secondo i tecnici si tratterebbe solamente di microcrepe dell'intonaco che non coinvolgerebbero la stabilità della struttura. Non ci sarebbe dunque nessun pericolo per l'incolubità dei frequentatori del cimitero che comunque hanno lamentato anche diverse altre criticità. Vediamo. Erano stati realizzati e consegnati nel giro di qualche settimana per far fronte all'emergenza sepoltura che aveva di fatto intasato la camera mortuaria di Farello. I 320 loculi prefabbricati realizzati da Ghelas in somma urgenza per un costo complessivo di circa 145 mila euro avevano dato ossigeno all'emergenza consentendo di riavviare le tumulazioni senza dover intervenire con nuovi espropri. Oggi a distanza di meno di un mese dalla consegna dell'ultimo lotto però sembrerebbero emergere alcuni problemi. Su un paio di lotti che guardano a sud del cimitero diversi utenti hanno segnalato la presenza di preoccupanti crepe sulla copertura. In alcune parti lunghe poche decine di centimetri, più lunghe e più profonde invece sul tetto di una delle otto strutture. A segnalare il pericolo Emanuele Campailla che proprio in uno dei nuovi loculi ha recentemente seppellito la moglie e che quindi si reca giornalmente a Farello. Sono partite delle lesioni in una struttura che è nuovissima, cosa grave. Per lo più per l'uncolimità delle persone che passano perché qua c'è andare e venire di gente e quindi c'è una lesione abbastanza consistente. La seconda cosa è che non è stata fatta la copertura, cosa alquanto grave. Emanuele lamenta anche la difficoltà nel mettere i fiori nei piani più alti a causa di una serie di scalini che impediscono alla scala di poter essere correttamente posizionata. Per mettere dei fiori là ci sono delle scalinate che è impossibile mettere nella scala quindi di conseguenza qualcuno sa pure fare male a sto punto. Io vorrei capire il tecnico che ha fatto questa struttura, chi è e con quale criterio l'ha fatto. I frequentatori del cimitero lamentano poi il fatto che la domenica i cancelli sul lato nord di Farello rimangano chiusi costringendo gli utenti a percorrere centinaia di metri in salita sotto il sole per poter raggiungere le tombe dei loro cari. La domenica i cancelli restano chiusi perché si crea assembramento. Non è vero niente perché devono entrare tutti da un solo lato, cosa gravissima. Là si crea l'assembramento, non qua. Perché se tu apri tutti i cancelli la gente si sparpaglia. Emanuele intanto chiede un intervento immediato di messa in sicurezza delle strutture. Le cose fatte alla Carlona non sono mai piaciute. Queste sono strutture che devono rimanere nel tempo. Mi hanno detto di pagare una certa somma, io l'ho pagata. Però non sono contento di come è stata fatta. Quindi bisogna che si sistemi al più presto possibile. Così com'è non va bene. In mattinata la Ghelas ha mandato una squadra per effettuare un sopralluogo delle strutture e verificare se le lesioni siano legate a un normale fenomeno di assestamento se sussistano pericoli che richiedano un intervento immediato. Secondo i tecnici della municipalizzata si tratterebbe di microcrepe dell'intonaco che non coinvolgerebbero la stabilità della struttura. Non ci sarebbe dunque nessun pericolo per l'incolumità dei frequentatori del cimitero. La cronaca giudiziaria. Le tre condanne già messe in primo grado dalla gruppa del Tribunale Caltanissetta sono da confermare. Lo ha spiegato la Procura Generale nel giudizio di secondo grado scaturito dall'indagine Smart. I tre imputati sono accusati di aver organizzato un giro di droga che pare avesse come punto centrale le piazze di spaccio della Movida della città. Vediamo. Le condanne per lo spaccio di droga nella Movida della città vanno confermate. La richiesta è stata avanzata ieri dalla Procura Generale nel giudizio di appello successivo alle decisioni di primo grado legate alla Blitz Smart. Il GUP del Tribunale Nisserio impose 10 anni e 6 mesi di detenzione. A Rocco Grillo, 6 anni e 6 mesi ciascuno invece ad Antonio Radice ed Emanuele Brancato. Per l'accusa tutti i pronunciamenti del GUP messi alla termine del giudizio abbreviato sono da confermare. I tre secondo i PM della DDA di Caltanissetta i carabinieri avrebbero avuto un ruolo cruciale nell'organizzare un vasto giro di droga finalizzato soprattutto a rifornire le piazze di spaccio della Movida. Gli imputati hanno sempre respinto le accuse anche se gli investigatori ne seguirono le mosse per diversi mesi. secondo le contestazioni avrebbero spacciato anche cocaina. I difensori, gli avvocati Giacomo Ventura, Davide Limoncello e Marina Di Dio a loro volta hanno esposto le rispettive conclusioni. Sono stati illegali ad impugnare le decisioni di primo grado e hanno ribadito che non ci sarebbero vere risultanze su un eventuale coinvolgimento degli imputati nello spaccio di droga. Hanno richiamato delle possibili incongruenze nella ricostruzione condotta dagli investigatori che non corrisponderebbe ad una concreta responsabilità dei coinvolti. I giudici di appello si pronunceranno a metà giugno per le difese tra le altre cose non furono mai ricostruiti veri e propri passaggi di sostanze stupefacenti. Dall'inizio dei lavori la situazione pare non essere mai stata sotto controllo dell'amministrazione comunale. Quello che ci chiediamo è se l'assessore Liardi stia vigilando sulla realizzazione dell'opera e quanto si chiede Rosario Emanuello, dirigente della sezione locale di Fratelli d'Italia. Il 28 settembre scorso l'amministrazione ha annunciato l'inizio dei lavori di riqualificazione di vieni scemi e il suo completamento in appena nove mesi. In realtà da allora la città di lavoro ne ha visto ben poco, dice Emanuello. A crescere sotto gli occhi e la cittadinanza tutta, ma soprattutto ai residenti, ai titolari e alle attività commerciali della zona, sono stati solamente i disagi cresciuti a dismisura data l'importanza dell'arteria interessata con il totale blocco della viabilità e la mancanza di un piano di viabilità alternativo, dice Rosario Emanuello, dirigente locale di Fratelli d'Italia. Continuiamo a parlare di politica perché c'è la riforma approvata dal Consiglio riguardo al numero delle commissioni. La Sisecifica ha approvato la proposta per rivedere la riorganizzazione delle commissioni consigliari. Si passa da 5 a 8 e anche le materie di competenza verranno riviste. L'Aula, senza troppe distinzioni, ha dato seguito alla proposta avanzata dalla Commissione Affari Generali. Vediamo. L'accordo politico è stato confermato ieri dall'Aula. È passata la proposta della Commissione Consigliare Affari Generali, che rivede in gran parte il regolamento proprio delle commissioni a Palazzo di Città. Dalle attuali 5 si passa ad 8 e la nuova geografia dovrà essere riorganizzata entro i prossimi 30 giorni. Non ci sono stati inconvenienti di percorso, segno che l'intesa tra maggioranza e opposizione ha retto. Il presidente della Commissione Affari Generali, Vincenzo Casciana, ha parlato dell'esigenza di riorganizzare la struttura soprattutto per dare migliore copertura a materie che altrimenti avrebbero rischiato di finire in un angolo senza troppa considerazione. I consiglieri pare non ne facciano un problema di gettoni, ma appunto di necessità di organizzare il lavoro in maniera più efficiente. Così alle attuali 5 si aggiungeranno le commissioni chiamate ad occuparsi di politiche sociali, pesca e mare, ancora cultura, sport e spettacolo. Alle attuali 5 commissioni vengono assegnate anche competenze più dettagliate, comprese quelle sui progetti. Proprio Casciana ha spiegato che l'esigenza primaria deriva da una società che cambia e varia le priorità. Il lavoro dello stesso presidente e degli altri componenti, Davide Sincero, Salvatore Scerra, Paola Giudice, Alessandra Aci, ha ottenuto il via libera dell'intera aula consigliare con pochissime defezioni. Questa volta nessuno scontro, ma la volontà di arrivare all'approvazione evidentemente c'era già. In aula sono passati anche tre debiti fuori bilancio, i consiglieri torneranno a riunirsi venerdì. E' stata infatti accolta la proposta di rinvio avanzata dal consigliere Rosario Tranito dopo il voto favorevole sulla proposta relativa alle commissioni. Secondo posto per gli Slayers Softair Team di Gela. La prima tappa del campionato, pattuglia lungo raggio, che si è svolta a Piazzarmerina in questo fine settimana. Il torneo è promosso dalla Federazione Italiana a giochi tattici intitolato Operazione Memories e ha coinvolto team di atleti da tutta la Sicilia. Tra gioco tattico, cartografia e impegno fisico, per oltre ben 30 chilometri di cammino, gli atleti della Slayers hanno affrontato 19 ore non stop, conquistando il secondo gradino del podio con 7.830 punti, a solo 30 punti di distacco dai primi classificati. La pattuglia era composta da Domenico Cascino, Luca Di Vita, Steve Micichè, Elio Romano, Francesco Attardi e Simone Mistretta. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Siamo in chiusura, naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quodianodigela.it Se invece volete rivedere oppure condividere i nostri servizi le trovate sulla nostra pagina social Facebook, Instagram e Youtube. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.